E mentre dal Consiglio regionale abbiamo un neoeletto, il consigliere Baldi, buongiorno. Buongiorno Francesco, buongiorno. Allora, questo primo giorno di scuola come lo stai vivendo e che sensazioni stai traendo dall'atmosfera, dal clima che c'è? Per adesso buono perché c'è tanta partecipazione di gente, io mi auguro che tutta la gente che sta qui continui a esserci, io chiedo che venga eliminato questo vetro, che magari sarà stato pure costoso, che divide i consiglieri dai cittadini perché è bene che tutti noi consiglieri sentiamo il fiato sul collo della gente che vuole, adesso per esempio in questo momento ci sono state le persone licenziate inusamente nel campo della sanità, e quindi sarà il primo punto su cui andare a colpire sprechi, inefficiente, interessi di pochi, difendendo invece la sanità pubblica, difendendo l'eccionolente di questa regione, facendo in modo che quello che deve essere fatto sarà fatto, per cui per adesso ripeto, questa partecipazione di gente mi conforta, spero che rimanga sempre così. Ecco, ieri c'è stato questo programma molto interessante su Rai3, presa diretta. Ti devo lasciare però che c'è l'appello. Ah, perfetto. Ciao Michele, buon lavoro e un bocca al lupo. A gli decci, grazie per lupo. Ciao.